Nause e vomito in gravidanza colpiscono due future mamme su tre. In certi casi possono diventare una vera e propria patologia che incide profondamente sulla qualità di vita della donna e che ha anche dei riflessi sul nascituro. Ne abbiamo parlato con un vero esperto, col professor Romolo Di Iorio, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento che ha fatto il punto proprio su questi temi. Professor Di Iorio, in cosa consiste esattamente il problema della nausea e vomito in gravidanza? Riesci a farcelo capire? La nausea e vomito in gravidanza è una patologia che colpisce fino al 70-80% di tutte le gravidanze ed è caratterizzata dall'insorgenza prima della sedicesima settimana, al terzo o quarto mese di gravidanza. Talvolta perdura anche dopo questo periodo e sono circa il 70-80% di tutte le gravidanze. Fino al 3-4% abbiamo delle forme gravi che vengono indicate col termine iperemesi gravidica e che è appunto una forma che ha bisogno poi di ospedalizzazione, devono essere ricoperate, e quindi è una delle cause più frequenti, per esempio, di assenza dal lavoro durante le prime fasi della gravidanza è una delle cause anche in alcuni paesi di interruzione appunto di gravidanza in alcuni paesi. Le sequelle, se una volta era intesa la narrazione della nausea e vomito in gravidanza, era intesa come una forma di disturbo proprio della gravidanza che comunque passava di per sé con l'epoca gestazionale, che adesso viene intesa in maniera appunto completamente diversa, deve essere trattata e quindi proprio per evitare poi l'ospedalizzazione e la progressione verso le forme appunto più gravi della malattia. Professore, come ci ha fatto capire si tratta di un problema fisiologico dovuto alla natura umana, e alla natura della donna in questo caso, ma la causa qual è esattamente? Allora, una volta c'erano diverse teorie eziopatogenetiche, cioè le cause diverse. Una di queste era per esempio una teoria psicogena, nel senso che era il basso livello socio-economico di queste donne, il rifiuto della gravidanza, cosa che si dimostrava non essere assolutamente vero. La causa è legata verosimilmente all'incremento di un ormone prodotto all'inizio della gravidanza, che è la gonadotropina corionico-umana, ma recenti studi hanno dimostrato che c'è anche in queste donne una mutazione di un gene, un gene che regola i centri appunto della nausea e del vomito, e questo spiega anche la ricorrenza di questa complicanza della gravidanza nelle gravidanze successive. C'è un rischio del 60-70% appunto superiore alla media di avere appunto di nuovo una forma grave di nausea e vomito nelle gravidanze appunto successive, se nella prima gravidanza era comparsa appunto una forma grave di nausea e vomito. Siete professore, oltre naturalmente a incidere sulla qualità di vita della donna, questo problema può anche causare dei problemi di tipo alimentare, in che senso? Beh, chiaramente uno dei requisiti è quello che c'è il rifiuto appunto del Cib, chiaramente la donna non si alimenta in maniera corretta durante questa fase appunto della gravidanza, che è una fase importante dal punto di vista dell'alimentazione, ma le sequele possono essere anche diverse. Alcuni studi hanno dimostrato per esempio che ci sono dei disturbi comportamentali nelle donne con nausea e vomito, soprattutto nelle forme più gravi, la depressione postpartum è più frequente, ed è più frequente anche quella che adesso viene riconosciuta come la sindrome post-traumatica appunto della gravidanza. Ci sono delle sequele, o sembrerebbe esserci delle sequele, nelle forme più gravi anche nel feto, i bambini nati da madri con forme gravi di nausea e vomito in gravidanza, presentano con maggior frequenza i disturbi comportamentali, come per esempio i disturbi dell'attenzione, eccetera. Professore, da qualche tempo è disponibile in terapia un farmaco, un'associazione di due principi attivi, che è il primo specifico per questa indicazione. Ci dice due parole sull'efficacia, ma anche sulla sicurezza, che logicamente trattandosi di gravidanza è un fatto molto importante. In Italia nel 2019 è stato registrato appunto un farmaco, è un'associazione tra un antistaminico, la doxilamina e la piridossina, che sarebbe la vitamina B6. È un farmaco che era già stato registrato negli Stati Uniti nel 2014, è stato registrato anche in Inghilterra e in altri paesi dell'Europa appunto nel 2018 e nel 2019. È un farmaco sicuramente efficace, perché riduce la sintomatologia, ma soprattutto evita la progressione nelle forme più gravi della patologia. Tanto che proprio parlando delle ricorrenze, tutte le linee di guida internazionali, il Royal College inglese, l'American College appunto degli Stati Uniti, dicono appunto di trattare queste donne appunto il prima possibile, per evitare proprio la progressione e quindi poi il ricovero ospedaliero nelle forme più gravi. Ecco, riguardo la sicurezza, la tollerabilità del farmaco, cosa possiamo dire? Possiamo tranquillizzare la donna? Allora, solitamente uno degli effetti collaterali degli antistaminici, la doxilamina e l'antistaminio, è per esempio la sonnolenza e la secchezza delle fauci. Gli studi recenti di sicurezza appunto sull'uso del farmaco in gravidanza dimostrano invece che questi effetti collaterali praticamente sono uguali a quelli del gruppo placebo negli studi in cui era effettuato appunto il gruppo placebo, ma è sicuramente sicuro anche nel feto, nel senso che sono state utilizzate tutta una serie di accortezze e via dicendo, è praticamente un farmaco efficace e sicuro sia per la madre che per il feto. Grazie.